Salve io sono Pio e benvenuti nella mappa Diversity Ebbene si signori, finalmente sono riuscito a far funzionare questa fottutissima mappa Che nei commenti mi avete chiesto abbastanza E devo dire che non è stato propriamente facile riuscire ad avviarla Perché come vi avevo detto nel secondo o terzo episodio della Parkour Woods Avevo intenzione di giocare questa mappa che mi avete consigliato Che non è una mappa Parkour ma è una mappa Puzzle Tipo una cosa del genere Giusto per cambiare comunque tipologia di mappe che porto sul canale Altrimenti porto sempre le stesse mappe Fare sempre Parkour una cesta diventa noioso Quindi era comunque bella l'idea di variare Solo che quando avviavo questa fottutissima mappa ogni volta crashava il gioco E alla fine dopo aver sbattuto un po' Ho visto anche che pur mettendola su server come mi avevate consigliato comunque crashava Alla fine ho capito qual era il problema E il problema è che se voi siete abituati a giocare versioni più nuove di Minecraft Dove avete la render distance magari a 15 a 20 a 30 nel mio caso io ce l'avevo a 32 se non sbaglio Ecco quando voi provate ad avviare una versione di Minecraft che sia più bassa o comunque più vecchia della 1.8 In questo caso particolare questa mappa si gioca in 1.7.4 Quindi vi fa capire quanto cavolo è vecchia questa fottutissima mappa Il gioco tende a crashare perché voi dovete cambiare la render distance Solo che se lo fate dalla versione più nuova tipo io avevo la 1.19.4 No la 1.21 avevo perché l'ultima mappa era nella 1.21 se non sbaglio Se lo fate all'interno della nuova modalità non si cambia cioè non funziona Vi salva sempre nel file chiamato option.txt all'interno della cartella di Minecraft Vi salva sempre la render distance maggiore che voi avete messo nel gioco A prescindere che poi nella versione più nuova l'abbiate abbassata Quindi io sono dovuto andare manualmente nella cartella di Minecraft A cercare il file chiamato option.txt Ve lo scrivo qui option.txt Ho sbagliato a scrivere così option.txt Come ho scritto lì in basso E ho dovuto cercare la voce render distance C'era scritto 32 e io ho messo 12 Che 12 è il massimo se non sbaglio che si può mettere forse in questa versione Sapete che non lo so E no che mi carica 12 chunk Anche perché questo qui è il default forse che c'era nella 1.7.4 Almeno credo Non ne sono sicuro però effettivamente io cercando online sul reddit Ho trovato un cristiano Santo cristiano che mi ha consigliato di fare questa cosa Di mettere a 12 massimo oppure più basso E effettivamente poi sono riuscito ad avviare Minecraft 1.7.4 Con questa foto edizione app Che poi comunque Minecraft 1.7.4 si avvia Solo che non riesce ad entrare nei mondi C'è qualsiasi mondo anche se ne crei un altro Comunque non ti ci fa entrare quindi O a prescindere che tu usi una mappa O crei un mondo in 1.7.4 Comunque crash a Minecraft quando provi ad aprire il mondo Quindi che palle Ti devi cercare queste cose perché Minecraft è fatto col culo Negli anni hanno fatto aggiornamenti su aggiornamenti E hanno fatto casini Comunque signori come leggete qui sopra Per l'appunto siamo nella mappa chiamata Diversity Vi ripeto versione di Minecraft 1.7.4 Qui c'è scritto GTH o GTM Forse sì probabilmente GTM O C, C, CTM Non so se è una modalità di Minecraft CTM o se tipo il nome del creatore del gioco Non lo so io non so niente di questa mappa Non ho neanche cercato video su YouTube Per vedere com'era perché ovviamente Essendo una mappa puzzle Se ti vai a spoilerare le parti puzzle Poi alla fine che cazzo fai Però sto vedendo che siamo in survival e io sto perdendo cuoricini O meglio non cuoricini ma cose di fame Colciotti Il che è molto molto male Questa è una cassa trappola L'apro Ok mappa 6 Welcome Ok ci prendiamo il welcome Ci prendiamo la mappa Apriamo subito il welcome Che ci dice Diversity goal Complete the branches to collect the wool Quindi devo branches Non so cosa significa Credo siano tipo indovinelli E devo collezionare delle lane Attenzione Traveling to and from hub Will clear your inventory Quindi ogni volta che entriamo E usciamo dal lab Ci viene ripulito l'inventario Multiplayer non ci interessa Regole No breaking or placing items Allo si è strutted or impled Non so cosa significa Comunque c'è scritto tipo Non distruggere o piazzare oggetti All'ess Sarebbe tipo run Instructed or impled Non so cosa significa A meno che tipo Non venga richiesto Credo significhi Poi no changing Difficulty or game mode Vabbè siamo in survival Lasceremo in survival Quindi non devo cambiare la difficoltà Allora game mode Non devo digitare comandi Ok perfetto Fortunatamente ho scritto solo Option.dxt Che non è un comando Altrimenti avremmo già mandato A fuori la mappa Single player Ok Select easy now And avoid option screen See download folder for details Non ho capito Easy Ok And avoid option screen Non so cosa significa Però io metterò Dico in easy Quindi facciamo easy Ok E poi Il resto delle cose Non ho capito Option screen Che intende Non lo so Non lo so Lasciamo così Vaffanculo Ok Ritorniamo nella pagina Qual era Questa qui Ok E ci dice Highly recommended Ok Brightness full Resource spec default Clouds off Render distance 16 Ok Allora Adesso mettiamo Render distance 16 Brightness full E clouds off Ok Quindi Opzioni Video settings Dobbiamo mettere Brightness Vabbè Stiamo Bright Render distance Mettiamo 16 Che il massimo E poi dobbiamo mettere Clouds out Ok Abbiamo risolto Manca qualcos'altro Prima di iniziare O possiamo iniziare a giocare Dai Che palle Begin Ed in And grab The introduction full Diversity By Q magnet Ok Q magnet Il nome Del creatore Della mappa Direi che possiamo andare avanti Questa mappa cos'è Diversi disolvi Playable In 1.7.4 Ok Sì Questo l'avevamo intuito Visto che ci ho messo un'eternità A riuscirci Ok Si è aperta una porta Incredibile Ok Questo credo sia Lab Allora Prima di aprire la cesta Vediamo cosa ci dice qui Introduzione Adventure Arena Trivia Parkour Escape Labyrinth Dropper Survival Puzzle Boss Battle Allora Suppongo che qui Tipo io debba Sbloccare le lane Qui sotto ci andranno le lane Tra la lana questa cosa si illuminerà Per dirmi che ho completato La zona Solo che io avevo capito Che era una mappa puzzle A quanto pare invece Una mappa dove ci sono Più cose Perché c'è un adventure Un arena Un trivia Che è per l'appunto Credo il puzzle Poi c'è la parte parkour La parte di escape La parte di labirinto Labyrinthian Labyrinth Parte dropper Bellissima Ok Ok interessante Qui c'è l'introduzione Qui c'è una scala Che ci porta supero e chiuso Ok queste sono le varie parti Dove bisogna entrare Per andare avanti nella mappa Qui c'è una cist Vediamo la cist Insert item Che devo inserire Questi qua Se inserisco non succede nulla Giusto Ok Analising item Please stand back Quindi sta analizzando L'item che abbiamo Lì in basso a sinistra Non so quanto ci metterà Is not your personal Thresh cane Oh well Mine now Ok quindi Mi ha appena mandato a fanculo In pratica Perché mi ha detto Che questo non è il mio cestino Della spazzatura Che sembra giusto Beh immagino che dobbiamo andare Nell'introduzione Ok ci ha dato direttamente la lana Adesso immagino Che mettendo la lana qui Essendo che io sotto Sto vedendo che c'è un'opera Adesso mi dirà che lo sta analizzando Adesso immagino che qui Con qualche sistema di pistoni Incredibile Leverà sto blocco E mi metterà tipo la lana bianca E questa si attiverà E infatti E infatti Ok Ma è in realtà Molto più semplice Di quanto pensassi Ok E come vedete Si è accesa Quindi l'introduzione Abbiamo fatta Ok good Now you understand E no No Fammi leggere Dammi il tempo Ok bravo Adesso hai capito Come completare il monumento Quando avrai Finito una porzione Del monumento Regà no Non capisco un cazzo In inglese You close off The corresponding branch Non so cosa significa Vabbè Ci sono altri dieci Cose da fare Altre dieci Lane da prendere Prendile tutte Più o meno è quello Che c'è scritto Fidatevi Credo di sì Dovrebbe essere Comunque qui Entriamo nell'hub Che è quello Che ci porterà Le varie zone Qui c'è scritto il bonus Ok quindi ci sono anche Parti bonus Che poi eventualmente Facciamo alla fine Vediamo da cosa iniziare Iniziamo da destra Dove c'è l'arena branch O da sinistra Dove c'è la puzzle branch Ma io ho visto Che questa mappa Pensavo fosse puzzle Direi di iniziare Dalla puzzle branch Quindi andiamo qui Ci trasporta in un altro posto Ok E questa è la zona del puzzle Allora Questo è il ritorno to hub Quindi se noi ritorniamo Se adesso dovessimo prendere qualcosa Il nostro inventario Verrebbe pulito Perché ce l'ha detto all'inizio E questa cosa Non ce la dobbiamo dimenticare Perché al suo punto Se io prendo una lana qui Immagino che se ritorno all'hub Non me lo leva E quindi lo devo rifare Qui c'è una parte che si apre Però ovviamente è chiusa Qui ci sono delle lanterne Che probabilmente dovrò accendere Qui ci sono delle lane colorate Con dei pulsanti Vediamo qui Non si può fare nulla Immagino dover cliccare Tipo sta pedana Ok mi ha dato Dei music disc Ok Non ho altri indizi Se lo dico qui No Ok non c'è scritto nulla Se io clicco questi Tipo giallo Arancione Guarda io ho però Dei dischi musicali Con un colore Che immagino Che se metto questo E clicco tipo questo Ok quella si è accesa Va bene Adesso provo a fare così Metto il rosso E adesso vado a cliccare il rosso Che non c'è Quindi vado a mettere Ad esempio L'arancione e il giallo Mettiamo il giallo Che è questo qui E vado a cliccare il giallo E si è spenta quella Ok sta cosa non la sto capendo Allora Cerchiamo di capire Se io adesso Ho il giallo Ok non mi dice il colore Però quello è chiaramente giallo Io clicco sul giallo Non succede nulla Ok quindi sappiamo Che il giallo E abbiamo perso il disco Abbiamo perso il disco Se vado qua Ma lo ridà Ok grazie gentilissimo Allora sappiamo Che il giallo Non ci serve a un cazzo Il viola invece Il C418 Mal Invece accende Una lanterna Che è quella lì Ok quindi sappiamo Che questa qui Ci serve E la mettiamo qua Ora quello rosso Il rosso qui non ce l'abbiamo Quindi io direi di andare Tipo sul verde Questo però è verde Ok e schiacciamo questo verde Che non fa nulla O schiacciamo questo qui E non fa nulla Incredibile Quindi questo qui Immagino che non serve a nulla Proviamo con quest'altro Che è sempre verdino E schiacciamo questo verde Non fa nulla Schiacciamo questo Non fa nulla Ok quindi non è così che funziona Non lo so E inizio ad avere qualche dubbio Sul fatto che effettivamente Funzioni così Proviamo a mettere questo Schiacciamo questo qui No nulla Schiacciamo questo Assolutamente nulla E anche questo Lo mandiamo a fanculo Quindi immagino che non sia come stavo pensando che fosse Questo potrebbe essere un problema Proviamo col bianco Il bianco sta qua Mettiamo quello Si è accesa una lanterna Ok se schiaccio il bianco Un cazzo Ok Ah sappiamo che il bianco comunque qualcosa accende Il bianco comunque qualcosa accende Questo però non accendeva lo stesso Non accende quello Ok Ok quindi sappiamo che Questo va qua E questo va qua Questo qui Non accende nulla Questo rotto Non credo accende No invece accende il primo E vabbè Ma il parola non te ne andai A fanculo Ok il musico Il disco rotto accende il primo Interessante Questo abbiamo visto che invece Non accende assolutamente nulla Quindi sono rimasti da provare Questi quattro Immagino che tra questi quattro Ci siano quelli che accendono Gli altri due lanterne Quindi questo Che accende di nuovo il primo Questo potrebbe essere un problema Questo accende qualcosa Assolutamente no E il disco però Se ne va sempre a fanculo Questo accende qualcosa Ok accende questo Ok Quindi questo ce l'abbiamo E immagino che a questo punto Questo qui Arancione accenderà L'ultima lampada Ok esatto Accende l'ultima lampada Esattamente così Ok però non c'è differenza Tra il disco rotto E questo qui Intero Perché sia questo rotto Sia quello intero Accendono la prima E anche se faccio così Esatto Funziona con entrambi Allora io direi che Questo rotto lo mettiamo un attimo Qui sopra Questi qui stanno esattamente In ordine Proviamo ad accenderli In ordine Anche se io non so poi Questo a che serve a sto punto Comunque adesso vediamo Allora proviamo a fare così Ok la prima si è accesa Ok va bene Se io provo a schiacciare Questi tasti Che succede? Allora schiaccio questo Non succede un cazzo Schiaccio quest'altro Non succede un cazzo Questo qui Assolutamente nulla Con quello marrone Neanche Con quello bianco Probabilmente nemmeno Con questo qui verde Assolutamente un cazzo Di niente Con questo nero La stessa esatta cosa Con questo verde più chiaro Comunque un cazzo Con questo azzurro Esattamente nulla Allora io adesso Proverei a fare così Ok E accendiamo pure questo Poi accendiamo questo qua Poi facciamo così E poi facciamo così E si sono spenti tutti però No lo so Non sto capendo Allora Proviamo a fare una cosa Intanto mettiamo questo qui rotto Questi adesso però Non sono più in ordine Ok si questo è in ordine Ok però si sono spenti Mannaggia miseria Allora Cerchiamo di capire Tu vai qui E ti accendi E' scaduto il timer E noi siamo ancora qui Non sto capendo Questo è il secondo Però si spegne quello Ok Lì non è successo un cazzo Questo è il terzo Ok Ok questo è il quarto Però se io adesso Vado a mettere il quinto Questi tre si spengono Quindi se faccio così Ok se si spengono Non ti rimane acceso solo quello Se rifaccio così Ok Però non succede un cazzo Non sto capendo Però adesso si è acceso l'ultimo Perché si è acceso l'ultimo A questo punto si faccio così Ok però Mi è rimasto acceso l'ultimo Ok Ok Se ne sono accesi quattro Ciò vuol dire che se io adesso Vado a fare così Si accendono tutti E no Mi manca quello Era questo qui Non sto capendo Allora il primo si accende Ok Quei tre sono rimasti Se adesso proprio così No se ne sono spenti Ok metto questo qui E si è acceso il quarto Ok metto questo bianco Che era quello centrale E si spengono quei due Ma come è possibile Ma scusami Però non capisco Perché Scusa c'è la lana nera Se faccio tipo così No no Non succede nulla E quindi Facciamo così Ok Adesso manca il quarto No mi ha ridato i dischi E io ma non lo so più Vogli erano Mannaggia la miseria Rega non sto capendo Mannaggia la miseria Con questo qui Non succede un cazzo Con questo Ok si è acceso quello Adesso con questo qui Ma io credo si sia buggata Quella in fondo No invece si è spenta Non sto capendo rega E io pensavo fossero i colori Che tipo vanno matchati Con quelli Allora senti voi Io metto il bianco No? Sì Ok Metto il bianco Che si accende quello Se io tipo schiaccio questo Me lo fissa lì Cioè se tipo faccio così Adesso mi rimane No si leva E quindi? A che mi serve sto muro? Io non capisco Donna Sono ritardato Sentite rega Facciamo una cosa Ritorniamo all'hub Io ho detto che volevo iniziare dal puzzle Ma Direi di no Insieme dal dropper Dai Insieme dal dropper No perché Se vede com'è Primo episodio Poi non riuscire a fare un cazzo Mi siamo un po' bruttino Poi si fa Poi il puzzle Lo facciamo più avanti Lasciamo stare Allora vediamo qui C'è una casetta di villager Vedo se c'è giusto qualcosa Tipo qualche easter egg Qualche cesta nascosta Non credo ci sia nulla Con sti stronzi Non credo si possa parlare Cioè scappano via Sti maledetti Tu mi dai Wow Una libreria incredibile Qui non c'è assolutamente Un cazzo di niente Immagino non ci sia nulla In tutte ste casette No invece qui c'è un Return to hub Ok mi piace il fatto Che sia messo lì dentro Molto molto interessante Immagino qui Siedi da dove ci dobbiamo buttare Qui c'è un bellissimo Orticello Quindi l'unico pulsante Return to hub E qui immagino Dove dobbiamo iniziare la dropper Ok noi facciamo così Ci spostiamo un po' più in qua Poi andiamo un po' più in qua E ho preso quello Che non dovevo prendere Ah però ripartiamo da qui sopra Bene Quindi ma io quello Non l'avevo mai preso nella vita Allora dobbiamo andare un po' più indietro Un po' più in qua Poi facciamo tipo così Ok E siamo andati nell'acqua A posto Perfetto Quindi ce l'abbiamo fatta La dropper era questa Era facile Ah no solo più di uno Maledetto Bastardo di merda E quanto dura C'è il return to hub Qui possiamo salire Ok non c'è assolutamente nulla Non c'è assolutamente nulla In tutte ste parti qui Ok ma io pensavo che Tipo la dropper forse una Cioè pensavo fosse una cosa Per ogni Per ogni modalità Non pensavo fossero di più Non mi dice quante sono E come faccio a sapere Quante sono Tra l'altro Lì vedo un'altra dropper A tema Bo Alberi innevati Foresta innevata Quindi immagino che dopo Andremo lì Anche se l'altra poi Qui vicino non la vedo Quella col villaggio Ma vabbè Però Ok Non so quanti sono La cosa mi urta Mi urta non poco Se devo essere sincero Ok Ok ci abbiamo fatta Perfetto Anche questa è andata abbastanza facile Spero siano solo tre Almeno lo finiamo subito Questa parte di dropper Ok siamo arrivati Effettivamente a quella Che immaginavo essere Quella successiva Cioè la parte con La foresta innevata Qui c'è sempre il return to hub Con questa specie di Golem di neve Che però Ok Non è fatto male Nel senso Non funziona Al contrario di quelli Che sono fatti bene E qui c'è sempre Un'altra dropper Ci buttiamo Sta diventando Pian piano più difficile Maledetto Spero sia l'ultima Perché non vorrei che poi Dopo diventasse Troppo complicato Mannaggia miseria Non si faccio tipo così Ok come immaginavo Perfetto Come al solito Non pensano al fatto Che quando tu spawni Hai 5 secondi di immortalità Molto interessante Ah però ovviamente Ha fatto in modo Che io non recuperi vita Quindi comunque Pian piano la perdo La vita Ok però a me Basta fare tipo così Ok Poi aspetto un po' Per recuperare qualcosa Ok scendiamo in quello sotto Troppo facile così Voi direte Ma non si gioca così Non è fatta per essere giocata così Io vi dirò Non è colpa mia Se non pensano al fatto Che c'è l'immortalità Appena respawni Non sono mica Io scemo gag Che non penso a queste cose Scusate Mi sembra anche giusto Sfruttare le mancanze Della mappa Se una cosa è fatta male È giusto sfruttarla È giusto che sia così Scendiamo qui Poi a questo punto Possiamo scendere direttamente qua Che poi in realtà Qua mi potrei già buttare Però col cazzo E io direi che qui Ce ne andiamo In realtà Ma io direi direttamente Lì sopra Ok Abbiamo perso solo tre cuori Pensavo ne avrei persi Molti di più E direi che adesso Ce ne andiamo lì Perché evitiamo di fare La caduta lì sotto Che potremmo perdere Molti molti cuori Ok perfetto Sono morto Sono morto Sono stupido Però mi ributto subito E vaffanculo Ma facciamo così Molto tranquillamente Vaffanculo E vabbè Non è colpa mia Se non pensano a queste cose Regà ripeto Non è la prima volta Che in una dropper Sfrutto questa cosa Se nelle dropper Non pensano al fatto Che quando tu respawni E l'immortalità In una mappa In cui ti devi buttare E sopravvivere Non è colpa mia Cioè è una cosa Che ho sfruttato anche Nelle prime mappe Che vi ho portato sul canale Che erano tipo Solo dropper Perché le prime mappe Che ho portato sul canale Erano solo dropper Da quel che ricordo Dunque facciamo così Ci andiamo qua Adesso direi che Facciamo così Ok Poi possiamo scendere Qui tranquillamente E poi Qui sotto In realtà Ok abbastanza alto Però in realtà Se vado qui sopra Stiamo un po' più in basso Sapete che Non so se su quello Sovravvivo Bella domanda Faremo così Ok sono sopravvissuto Come hanno detto Credo che se andiamo qui sotto Perdo un cuore Forse Ok sì Un cuore e mezzo Ce l'abbiamo fatta Direi di scendere qui Che stiamo un blocco più sotto Poi qui sotto Recuperiamo tutta la vita E scendiamo qui Ok Persi tre cuore e mezzo Qui posso scendere tranquillamente Qui posso scendere tranquillamente Posso scendere tranquillamente Anche qui Poi qui sopra Ok Direi che adesso Ci possiamo pure buttare Volendo Però non voglio Perché non voglio rischiare di morire Mi sembra abbastanza ovvio Quindi faremo così La facciamo diventare da dropper La facciamo diventare parkour la mappa Ok E qui ci siamo In realtà io qui mi potrei anche Tranquillamente buttare Infatti è quello che faremo Mi butterò Perfetto Abbiamo fatto la terza parte della dropper Incredibile È stato veramente molto molto difficile Porca puttana No c'è anche quella A tema Tempio della giungla Quante sono? Eh sono un po' troppe Porca troia Eh ok Tempio della giungla Che fra l'altro io Vedo in minecraft Da un'eternità Cioè è un tempio della giungla In minecraft Ma non lo vedo neanche Se me lo cerco con i comandi Cioè Boh Non so neanche più se esiste Qui c'è il return to hub Ma inizio a dubitare Persino che esista ancora Il tempio della giungla In minecraft Perché Cioè non se ne vede da troppo tempo Ok Qui mi devo per forza buttare Ma io direi proprio di fare una cosa del genere No a quanto pare non si può fare Però rispondiamo sempre qua E quindi io posso fare sempre la stessa cosa Ma creatore della mappa Ci dovevi pensare a ste cose Ma per chi non ci ha pensato Certo Qui ci metterò tre anni Perché ovviamente Sai com'è È un po' più alto Sai che forse da sta caduta Non sopravvivo Ma assolutamente no Invece Sopravvivo è come Però io posso fare già così E ce l'andiamo direttamente nell'acqua Easy Facilissimo Ma regà È fantastico così Una stronzata Però regà Ne abbiamo fatte quattro Qua sta andando avanti Se c'è una per ogni bioma Minimo ce ne saranno altri due o tre E io sinceramente Non voglio fare un episodio Che dura mezz'ora Direi che come primo video Di questa nuova mappa Va più che bene così Perché alla fine A parte queste ombre Fatte veramente col culo Cioè non ho capito Perché esso Ve l'ha fatta veramente male Però appunto Come primo video Di questa nuova mappa Penso vada benissimo così Ma veramente Veramente molto molto bene Mi ho fatto comunque Quattro parti Della parte dropper Ho provato a fare anche La puzzle Che non ho capito un cazzo Ma a quanto pare Quella puzzle Ce la lasceremo Scusate per ultima Perché non si capisce un cazzo Faccio signori Io adesso mi posiziono In qualche bel posto E facciamo l'outro Così poi inizio Direttamente a registrare Subito dopo questo Già il secondo episodio Che voi vedrete Se questo lo vedrete martedì Il secondo episodio Lo vedrete Per ardi Credo E faccio in caso Io mi registro già tutto oggi Così mi porto avanti Adesso mi trovo un posto In cui salutarci E facciamo l'outro Ok signori Mi sono posizionato Qui davanti alla piramide Che è giusto Un po' più colorato Visto che c'è un po' di arancione Sulla piramide Il verde dei cactus Che tra l'altro Credo siano Molto più verdi Rispetto ai cactus Che ci sono adesso in minecraft Cioè me ne ricordo Molto più chiari I cactus Che ci sono adesso in minecraft Nelle versioni più nuove Cioè non me li ricordavo Così scuri Però non lo so Potrei anche sbagliarmi Non ne ho idea Comunque posso dire Prima di salutarci Che non avere la skin È bruttissimo Ma ancora più bruttissimo È avere quella cazzo di X Del Come si chiama Del puntatore Lì in mezzo alla faccia Veramente bruttissima Sta cosa Fortunatamente se non sbaglio Sulle nuove versioni L'hanno migliorata Sta cosa È da molto meno fastidio Comunque non c'è proprio Forse Non mi ricordo adesso Però comunque mi ricordo Che non ho quella cazzo di X Sulla faccia Che è molto meglio Comunque detto ciò Signori io spero Che questo primo video Della Non della parkour Io continuo a fissarmi Con la parkour Ma non è parkour Cioè c'è anche il parkour Ma non è una mappa parkour Comunque dicevo Spero che questo primo video Della mappa Dai versi Di vi sia piaciuto Spero di aver accontentato Chi me l'ha chiesta Io comunque la porterò avanti Spero non sia una mappa Che dura 47 milioni di video Anche se quella parte Puzzle Mi fa pensare Che non sia proprio facilissimo Però signori Detto ciò Io comunque adesso Come vi ho detto Registrato il secondo episodio Perciò se il video Vi è piaciuto Mettete like Se invece non vi è piaciuto Mettete dislike Ma commentate Dicendomi cosa non vi è piaciuto In modo tale Che possa migliorarmi Se vi sono simpatico Iscrivetevi Magari attivate la campanella Che a me come al solito Non dispiace mai E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao